Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su un nuovo vlog Perché questo vlog? No, in verità non è proprio un vlog, è un video veloce Così qui, che ogni tanto iniziava a fare questi video veloce, spero che vi piacciono Ehm, interessante perché Free, oggi ho rotto, no, l'altro giorno, un paio di giorni fa Ho fatto un video e probabilmente ho rotto il cazzo a qualcuno E ha pensato bene di bottarmi i non mi piace GRANDE Ma ripercorriamo tutta la vicenda da capo, che cosa succede? Giovedì, World Tour Minecraftita Venerdì pubblico, non potendo registrare il solito Minecraftita delle 14 Decido di pubblicare un video sulle start-up Quindi su varie idee che avevo io, magari io raccontandomi un po' la mia esperienza di business Che ho fatto nel corso degli anni, sono ovviamente business di piccolo taglio Però in tutti i casi è una mia esperienza che potevo raccontarvi Per parlare un po' delle mie conoscenze in merito all'argomento su start-up, finanziamenti e roba varia E comunque per fare un discorso generale in merito a questo argomento Ehm, sabato, vabbè, il video esce tranquillo Sabato e domenica, sera arriva il bello Abituati a vedere di solito, sarà un vlog in cui non rispondo a delle domande Ma soltanto un video in cui espongo, faccio io a voi delle domande Mi spiego meglio, l'altro giorno Avete appena visto uno spezzone di quel video E avete visto, no, la differenza 847 mi piace, 610 non mi piace Ora il punto è, dici, oddio free Magari li hai presi sul serio quei non mi piace In verità no, ha suscitato la mia attenzione quel video Perché domenica pranzo non ce li aveva Eh, tipo aveva fatto 24 non mi piace, una cosa del genere Adesso è arrivato a, cioè in mezza giornata è arrivata a 610 Ma, mezza giornata dopo la pubblicazione del video Ma dopo tanto tempo alla pubblicazione del video E quelle visual in verità ha fatto, davvero, troppe poche visual per tutti quei mi piace Nel senso, tutte le persone che avevano visto quel video, bene o male, avevano messo non mi piace Sì che mi sono un po' sospettito Sono andato a controllare anche su, ehm, le statistiche di YouTube E quei non mi piace effettivamente non c'erano Non comparivano Ho aspettato il giorno dopo, ovvero oggi Adesso posso farvi vedere le statistiche E vi faccio vedere da dove provengono questi non mi piace Eccoci qua ragazzoli, nella pagina delle statistiche di YouTube, ok? Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' Tempo di visualizzazione 15.188 minuti Durata media della visione, visualizzazioni, basta ragazzi Eh, numero di mi piace e numero di non mi piace Attualmente questo non mi piace, questo video A 231 non mi piace e come potete vedere tranquillamente nella, nella parte del video Cioè se andate a cliccare appunto sul video Noterete che ne ha molti di più 600, già 610 era la stima Quindi significa che sono stati messi ovviamente in pochissimo tempo Perché le statistiche sono aggiornate ogni circa, o in qualche ora comunque si aggiornano Quindi sono state messe in breve tempo Mi sa, 12 ore dovrebbe essere il tempo di aggiornamento O comunque, guardate un po' le origini del traffico La maggior parte in Italia, poi Svizzera, Regno Unito, Germania, Spagna e tutto il resto Adesso andiamo a vedere quello che interessa a noi Bensì i mi piace e i non mi piace Eccoli qua, guardate un po' Numero di mi piace in Italia, 806 Numero di non mi piace in Italia, 27 Ma guardate un po', il numero di non mi piace Sono 4 dalla Svizzera, 3 dalla Germania, 1 dal Brasile, 1 dalla Colombia 1 dal Regno Unito, 1 dal Lussemburgo, dalle Maldive, dal Perù, in Polonia, Stati Uniti E così via Per tanti altri, ovviamente non sono ancora aggiornati Ah no, questo è il numero di non mi piace, scusate Guardate un po', 27 dall'Italia e ci sta Ok, in Svizzera 0, poi 12 dalla Germania, 15 dal Brasile 12 dalla Colombia, 7 dal Regno Unito, 0, Lussemburgo e Maldive 0 5 dal Perù, 5 dalla Polonia, 16 dagli Stati Uniti, 2 dall'Albania, 13 dall'Argentina, Bosnia e Herzegovina 1 E insomma, sto video l'hanno visto dappertutto L'hanno visto da tantissimi posti del mondo, è incredibile Poi guardate un po', 28 dal Messico Allora, uno del Messico decide di venire a vedere il mio video 28 persone del Messico guardano il mio video, non li piace E decidono che devono mettere non mi piace per il semplice Perché? Perché poi ha fatto un video in italiano Non avrebbero possibilità di ascoltarlo Se andiamo a vedere qualsiasi video di Minecraft Guardiamo un po', prendiamo un video La farm di diamanti, eccola qua, guardate un po' Il numero di mi piace Cioè, vedete, non ho traffico Cioè, sto video ha fatto 300.000 visualizzazioni 360.000 visualizzazioni E guardate In questi altri paesi non ci sono Non sono minimamente presenti I mi piace, i mi piace sono soltanto Nelle, da, l'Italia No, ma che cazzo è sta roba? Farmi di diamanti Ah no, però questi sono gli ultimi 28 giorni Voglio l'intera durata Ecco qua, 23.000 mi piace Vedete, c'è la maggior parte del traffico Ovviamente sì, qualche altro video ce n'è Dall'Italia 22.000 mi piace Numero di mi piace italiani la maggior parte Ma poi si ferma qua Nel senso, non è che c'è tanto Origine di non mi piace Dal resto del mondo Ovviamente no E poi si ferma Che cosa mi fa pensare questo? Che sia appunto stato bottato Perché c'è la possibilità di comprare su YouTube Dei non mi piace Cioè sono dei servizi che appunto ti fanno Ti danno la possibilità di comprare dei non mi piace Mi giuro non ci sto credendo Non ci sto credendo Cioè si è speso 35 euro per bottarmi 500 E basta non mi piace Quindi sicuramente avrà speso di più E vabbè Signor Ivelli Tanta roba Tanta roba Vabbè io non lo so Non lo so Non so che gli ho fatto di male Comunque basta Voglio fare un video così Mi girare al cazzo Ho detto vabbè dai Spero Tu stia guardando questo video Perché Volevo anche dirti che Con 500 Mi piace Mai Dato Visualizzo Cioè 500 non mi piace Ovviamente mi fai pubblicità Perché Facendo così Bottandomi Non mi piace E uguale pubblicità Mi dai traffico Dai traffico ai miei video Quindi Grazie Ci hai speso pure 35 euro La prossima volta magari metti lì il mi piace Perché facciamo prima Va bene ragazzuoli Spero che il video vi sia piaciuto In tutti i casi vi ringrazio tantissimo Per la versione Ringrazio anche il ragazzo Che ha speso 35 euro Per bottarmi Iscrivetevi al canale Se avete fatto Condividete il video su Facebook E fammi c'è una versione Mi raccomando Passate in tutti I link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Noi siamo come al solito Un prossimo video Ciao a tutti ragazzi